Schena assicurazioni generali Garibaldi Un'ottima Sertori perde di misura contro il Torino, ora qualificato a play-off per la Serie A. La partita di scena domenica sul campo Cerrimari è subito partita col piede giusto per i Sondresi, che sono riusciti ad andare due volte in meta. Ma nonostante questo, gli ospiti hanno continuato ad attaccare, mostrando al contempo una difesa perfetta. Sullo scadere del primo tempo, gli avversari hanno ingranato ulteriormente la marcia, mettendo a segno ben tre mete, una al 28esimo, la seconda al 36esimo e l'ultima al 39esimo, una sola delle quali trasformata, portando così il risultato sul 12 a 17. La Sertori comunque non si è persa d'animo, entrando nel secondo tempo con ancora più grinta e determinazione, trasformando una meta e portandosi in vantaggio di due punti. Poltroppo i bianco-azzurri sono poi rimasti in inferiorità numerica, fattore che ha consentito ai torinesi di premere nuovamente sull'acceleratore e portarsi avanti grazie a due mete trasformate. I valtellinesi però non demorrono, continuando a spingere, segnando la meta del bonus offensivo al 67esimo, con un rolling mole, portandosi a cinque punti di distanza. La Sertori non ha comunque voluto dagiarsi sul risultato che avrebbe concesso due precisi punti in classifica. L'obiettivo era la vittoria, che purtroppo non è arrivata a causa di una difesa impenetrabile del Torino, che ha saputo reggere gli attacchi fino alla fine. Nonostante tutto, un'ottima partita per il team dai bianco-azzurri, che domenica scenderà nuovamente sul campo Cerrimari contro il Cus Milano, formazione battuta nel gelone d'andata. Obiettivo minimo la vittoria, che decreterebbe matematicamente la salvezza. Grazie. Grazie. Grazie.